Tensioni nel Parlamento greco, espulso dall'aula Panaiotis Iliopoulos del partito neonazista Albadorata. Iliopoulos si è prima rivolto al leader della sinistra radicale di Sirisa, insinuando voglia sfilare la poltrona al premier Samaras. Poi ha chiamato gli altri parlamentari capre, accompagnato all'uscita ha lasciato l'aula tra le grida di Heil Hitler, anche se resta incerto chi le abbia pronunciate. Per questo parlamentare di Sirisa il saluto a Hitler è stato pronunciato dai banchi di Albadorata. È la seconda volta questa settimana che sentiamo nel Parlamento inneggiare a Hitler da parte dei deputati di Albadorata. È strano che per prendere distanze da questa storia accusino me, avrei detto ironicamente questa frase. L'espulsione del parlamentare di Albadorata segna un primato. Nella storia dell'istituzione ellenica finora nessuno era mai stato costretto a lasciare l'aula. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!